Musica Nelle università italiane, statali, vi chiamo laiche, c'è un libro che non viene studiato. E questo libro è la Bibbia. I testi biblici trattano i grandi temi, l'amore, la morte, Dio naturalmente, ma anche i temi più concreti, più vicini alla nostra quotidianità. Sui Vangeli si è depositato un maggior numero di scorie, di duemila anni di commenti che a volte hanno perso di vista la materialità del testo. Io chiedo ai ragazzi di portare in aula il testo, il testo biblico. È un libro per il quale il nomadismo, lo spostamento, il non sentirsi a casa propria, l'essere stranieri, è strutturalmente presente. Non come un tema, ma proprio perché non esiste un testo biblico che sia stato scritto nei luoghi dei quali sta parlando. Il padre di Gesù non era il modello di assoluta, era un ribelle politico che si ribellava contro il potere e suo figlio farà la stessa cosa con armi non violente. E quindi probabilmente la narrazione ci dice costretto ad andare in Egitto. Un esule politico. E come la scienza entra in questo tipo di ricerca, di storia? Prima di tutto entra ricostruendo i linguaggi, proprio nel senso della lingua. Si si accorge che la traduzione greca e la traduzione latina della Bibbia hanno modificato in modo molto significativo alcuni passaggi. La famosa storia della costola. Adamo da solo non vale niente, è un mezzo essere umano, deve ricongiungersi con Eva per ricostituire il tutto e raccontare la storiellina un po' ridicola di uno che si addormenta e gli tolgono una costola e fanno una donna, è completamente diverso. Ma l'importante non è quale ci piace di più. L'importante è cosa dice il testo. Gesù parla con un linguaggio estremamente concreto, perché parla a persone del popolo. Ma Gesù non ha assolutamente detto è più facile che un cammello passi per la cronola di un ago che un ricco nel reno dei cieli. Perché la parola gamal vuol dire cammello, ma vuol dire anche corda. La corda con la quale si legavano i cammelli. Che era fatta di tante piccole cordicelle intrecciate. Non è vero che non ci entra, perché se io comincio a togliere, tolgo una fettina, tolgo un'altra cordicella. Ma Gesù non voleva dire questo. Diceva, caro ricco, certo che ci vai, devi diventare povero, devi spogliarti. La Chiesa, soprattutto medievale, non si è mai confrontata in maniera forte col testo ebraico. Perché il testo ebraico ci presenta la storia del popolo di Israele come la storia degli ultimi che alla fine si ribellano al potere. E a maggior ragione anche il testo evangelico. Il concilio Vaticano II ha detto che la Bibbia è un libro e va letta con tutti gli strumenti che noi applichiamo a tutti gli altri libri. Che pensa riguardo ai libri profetici anche? I propri profeti sono l'astraordinario esempio di quanto è importante essere stranieri e essere esuli. Addirittura Geremia dice al popolo ebraico ma piantatela con le nostalgie di casa comprate un terreno e una casa in Babilonia e integratevi. Proprio i testi profetici hanno questa straordinaria apertura all'altro e l'altro era quello che tornava distrutto il Tempio. Ciao a tutti. Grazie a tutti.